L'opposizione di centrodestra a Corigliano Rossano, guidata da Pasquodina Straface, ha duramente criticato l'amministrazione comunale per avere bloccato l'insediamento della multinazionale Becker-UX. Durante una conferenza stampa tenuta ieri, la minoranza ha sottolineato che la scelta del sindaco Flavio Stasi va contro l'interesse della città, accusandolo di agire senza il coinvolgimento del Consiglio Comunale e delle parti sociali. La responsabilità esclusiva in questo momento appartenca al sindaco, un sindaco che ha agito nell'assoluta solitudine. Non è stato capace di creare in questi anni delle relazioni istituzionali. Per il 24 ottobre è stato convocato il Consiglio Comunale per discutere la vicenda e proporre una via d'uscita. Il ritiro del ricorso presentato dal sindaco al capo dello Stato è considerato un ostacolo al dialogo per l'azienda. Forzare quelle che possono essere le scelte del governo del territorio. Cosa si dovrebbe verificare per tornare a discutere della partita? Ma io ritengo che il sindaco, il primo atto che dovrebbe fare è quello di ritirare il ricorso che ha fatto al capo dello Stato. Straface ha inoltre denunciato l'immobilismo dell'amministrazione che non ha risposto alla richiesta di confronto e l'avanzata ipotesi di coinvolgere il prefetto per sbloccare la situazione. E' un alibi quello della procedura amministrativa perché la posizione di Flavio Stasi è una posizione ideologica. E' una posizione che lui ha preso perché l'insediamento è voluto da una parte politica, è voluto dal presidente della giunta regionale Roberto Occhiuto.